Musica Queste sono due comunicazioni del 12 di settembre della Sostra House Per correttezza qualche cosa è migliorato Ma stiamo parlando di qualcosetta Qualche piccolo passo avanti se non riuscite a farlo Ci sono degli enormi problemi di collegamento tra La caccia in situazione A oggi non l'anno stravolta Il supporto dovrà essere stato lì E più pagine Cioè si sarà un po' meglio Perché le proprietà di cambiamento Il supporto dovrà essere stato lì Grazie a tutti.